Questa mattina un'esplosione violenta ha svegliato gli abitanti di un edificio in via Agnelli a Torino. L'incidente è stato seguito da un incendio al quarto piano dove risiede un uomo di 55 anni di origine romena con due gatti. Fortunatamente l'uomo è rimasto lievemente ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale, piantonato dalla polizia poiché sembra essere stato lui a causare l'esplosione. È accusato di tentata strage. L'evento ha avuto luogo alle 5 del mattino nell'edificio dell'ingotto dove si presume che l'uomo abbia danneggiato intenzionalmente l'impianto del gas causando la fuoriuscita di metano e poi appiccando il fuoco in casa sua. L'esplosione ha causato ferite anche ai gatti dell'uomo e danni a due locali vicini che sono stati dichiarati inagibili. Gli abitanti sono stati evacuati mentre i soccorritori, compresi medici, infermieri del 118 e squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme. Il 55enne è attualmente al CTO con codice giallo e gli investigatori stanno cercando di comprendere le motivazioni dietro questo gesto insensato. Fortunatamente non ci sono gravi conseguenze né per lui né per gli altri inquilini e secondo quanto riportato dalla stampa potrebbe aver tentato il gesto a causa di una storia d'amore finita male.